Questa è una situazione difficile che io mai la ho passato, ma mi piace, mi piace tanto come luce per il scudetto, perché credo che stando in una squadra più forte è più semplice a giocare al calcio, ma stando in una squadra che luce per la salvezza, dà di più per il calciatore, credo che mi piace, mi piace. Sì, sempre noi l'attaccante vogliamo fare gol, bisogna fare gol, perché sono l'attaccante per il comando della squadra, noi dobbiamo fare gol sempre. Non credo che tanto io come Roli, Robert, Mosca, Papo sentano il nervosismo per fare gol. Adesso sono più compatto in defensa, ma dobbiamo anche farlo in attacchi, non solo l'attaccante, tutti dobbiamo arrivare di più alla porta. Io no, sempre dove ho giocato l'attaccante abbiamo fatto sempre molti gol, ma questa è la prima volta che mi succede, ma credo che non è solo l'attaccante che deve fare gol, la squadra che deve fare e provocare situazioni di gol per l'attaccante. Ma credo che adesso noi teniamo una speranza con Livorno di fare come una finale. Grazie. Grazie. Grazie.